L'arrivo dei carabinieri, la corsa per sfuggire al fermo, ma i militari sono riusciti ad individuarlo. C'è un 31enne, già noto alle forze dell'ordine, tra i responsabili del furto di rame scoperto questa mattina a Trani, presso il parco della Pinetina in via Andrea. Fondamentale la segnalazione di un tecnico comunale che dopo aver notato movimenti sospetti nell'area interessata dal cantiere dei lavori, ha subito allertato il commissariato locale. Quest'ultima sua volta ha inviato la segnalazione alla compagnia dei carabinieri di Trani. Quando i militari sono giunti sul posto, hanno subito notato due individui che alla loro vista si sono dati immediatamente alla fuga. Uno di loro, il 31enne, è stato tuttavia individuato. Al termine delle ricerche i carabinieri lo hanno condotto in caserma, dove l'uomo è stato denunciato in stato di libertà, così come disposto dall'autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Trani. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di sventare il furto di ben 150 metri di rame già avvolti in piccole matasse. Sono in corso le indagini per risalire al secondo responsabile complice del 31enne che al momento è riuscito a far perdere le proprie tracce.